Dobbiamo dire veramente grazie a Dio, grazie alla Madonna, perché Maria interviene sempre. E questo momento che abbiamo vissuto, proprio nel giorno della festa della Vergine del Monte Carmelo, noi abbiamo vissuto un momento di apocalisse, come si può dire. È stato un momento che ci ha turbato il cuore a tutti noi, ma dobbiamo dire grazie al Signore e grazie alla Madonna che non ci sono state vittime. È vero, noi preghiamo anche oggi, anche ieri sera, e stasera ho celebrato proprio una messa di ringraziamento perché non ci sono state vittime. Ma abbiamo anche pregato per i feriti, anche per le famiglie senza una casa, perché perdere una casa è perdere la loro dimora, il loro nido dove si vive. Ed è sempre importante che le persone vivano nella propria casa. E allora la popolazione grida miracoli e allora vediamo affidarci a Maria, affidarci al Signore. Ecco la preghiera, quello che ho detto all'inizio di questa preparazione alla festa della Madonna. La preghiera, la preghiera è importante. E allora ringraziamo veramente il Signore, ringraziamo la Madonna, anche perché lei mette sempre la sua mano. La Madonna non è uscita, giustamente, che tutti l'aspettavano, ma penso che la Madonna è uscita mettendo tutti sotto il suo mando. E allora l'odiamo e ringraziamo il Signore. Anche l'Arcivescovo Don Mimo Battaglia ci siamo sentiti e ha detto che lui prega in questi momenti difficili. E la città, ecco, tutti noi preghiamo perché possiamo uscire da questo momento così difficile. Affidiamo sempre il nostro cuore alla Mamma Celeste, alla Vergine Madre del Monte Carmelo.